Direi che CJ Stone ha la gara in mano ormai, quando manca un solo concorrente, Zeke Falcone. E guardalo, guarda il nasino, contattato. Sarà molto difficile che CJ Stone possa essere superato. Che cosa? No! In quel momento capii, CJ era senza dubbio lo skater più forte. Aveva gareggiato perfino con delle ossa rotte. Eppure eccolo lì, terrorizzato da un maialino. Forse non era quella macchina imbattibile che pensavo. Forse avevo ancora una chance. Forza sì, vince anche per noi! Ti illudevi di sfuggirmi indossando questo ridicolo costume da pirata! Va bene, sei riuscita a trovarmi. Senti, Marta, c'è una cosa che ti devo dire. Cazzetto, intesi, devo dire prima io una cosa a te. Che sarebbe? Da questo momento io e te non stiamo più insieme. Tu non vuoi stare insieme a me? Sì, tu sei una lega! Sai, io sarei una lagna! Eh già! Spostati tu! Via! Ti prego! Il prossimo concorrente attualmente all'ultimo posto è Zeke Falcone. Zeke ha ancora la possibilità di dimostrarci di che pasta è fatta. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Un'ottima prestazione, ma basterà per l'oro? Non era abbastanza. Per tornare con la medaglia d'oro a Gilroy, serviva un numero speciale. Per fortuna ce l'avevo un numero speciale, così esagerato che non gli avevo ancora dato nulla. Straordinario! Hai visto una cosa del genere? Ragazzi! Che è essenziale!